Domenica prende il via la stagione di pesca alla trota nella riserva demaniale del comune di Pieve di Teco. L'Unione dei Pescatori Pievesi ha fatto sapere di aver programmato tre semine di trote. La prima sarà domani con 250 kg di trote, Fario e Salmerini. La seconda semina è prevista invece sabato 12 aprile con altri 150 kg di trote e la terza sabato 10 maggio con ulteriori 150 kg di trote. Il costo del tesserino annuale per pescare nella riserva demaniale di Pieve di Teco è di 50 euro per i residenti e 60 euro per i non residenti. Gli interessati possono rivolgersi all'emporio di Pieve di Teco al numero di telefono 0183 366 576.